Il sindaco ha invitato il governo in particolare dal ministro Cardinato Nantini per suscitare un'approvazione dell'opinione pubblica perché con uno strappo allo statuto il re e il primo ministro avevano già deciso in guerra dell'Italia a fianco dell'intesa. C'era sì bisogno del consenso del Parlamento e a tutti gli attunzio e altri dovevano servire a questo di forzare la mano al Parlamento dove erano i passaggi e erano i passaggi. Dorniamo alla volta. Dice che il ministro è la prima foto è l'ispadolo. La prima azione di l'annunzio in guerra è la Venetia, l'olimpatica, che era una prima azione di altri anni, per andare a ricercare tutte le cose dell'Adriatico in quella azione, l'info non lo trova, ma lo troverà altrimenti. La seconda azione è invece il volo su Trieste di cui in una delle vetrine abbiamo delle gustose riferiche e del pochierino dei miei figli. Cioè, questa azione del primo e dell'unico cittadino innamora anche il gettare il volantino. In questo caso il volantino ci aveva coraggio, iniziamo un portendo due polpa e della verità c'altra propagandola di Sero Bernunzi per il pochierino dei suoi incoli, che è diventato infestato dalla fondazione Novano, perfino il pochierino dei suoi incoli, che fa una storia di scolar. Si, di figurare che ci si, di costrette, si guadda il volo, il primo volo di Questo è il volantismo, è il volantismo dell'occhio, questo è il volantismo dell'occhio. Il volantismo dell'occhio è il volantismo, è il volantismo dell'occhio. Il volantismo dell'occhio è il volantismo, è il volantismo dell'occhio. Il volantismo dell'occhio è il volantismo, è il volantismo dell'occhio. Il volantismo dell'occhio.